E' una vittoria enorme insomma, una vittoria sulla quale penso nessuno avrebbe scommesso niente. E' vero che eravamo reduci da un buon campionato nell'anno precedente con i play-off, con eliminazioni un po' amare, però vincere un campionato e condurlo soprattutto in testa dalla prima giornata non era per niente opinabile. Per cui è stata veramente una cavalcata meravigliosa. E quindi questo stop non ha fatto altro che mettere in evidenza le forze di un campionato che ci aveva visti primeggiare da sempre. Per quanto riguarda l'importanza di questa vittoria, è importante per tutti noi. E' importante perché Bitonto immaginavo, oggi pomeriggio parlando con un allenatore di calcio, ex allenatore di calcio Nicola Molfetta, dicevo ma ti immagini Nicola quando verrai Palermo a Bitonto? Palermo a Bitonto, oppure Regina Bitonto, insomma, cioè piazze blasonate di serie A, che chiaramente non porteranno solamente il blasone, ma porteranno insieme tante di quelle persone che gioveranno non solo dal punto di vista sportivo, ma anche dal punto di vista economico e soprattutto potranno molti scoprire le bellezze della nostra città. Ecco perché ritengo che questa sia una vittoria meravigliosa sotto tutti i punti di vista. E permettetemi di dire un grazie, un grazie al presidente Rossiello, perché è vero che Bitonto calcistica ha sempre avuto degli ottimi presidenti, gente che ha sempre messo mano alla tasca e ha tirato fuori di tasca propria. Ma quello che il presidente Rossiello ha fatto era inimmaginabile da quando il Bitonto si chiamava l'OM, Omnia, e da quando partì dalle serie infine, diciamo, per poter assurgere alle realtà nazionali. Ecco perché io ritengo che un grande grazie la cittadinanza debba esprimerla nei confronti di Francesco Rossiello e chiaramente poi anche all'allenatore, allo staff, ai direttori sportivi e a quanti hanno contribuito alla realizzazione di questa grande impresa. Certo che ne vedremo delle belle. Carissimo presidente, io e tutti gli ex giocatori del Bitonto, e abbiamo avuto modo di incontrarti in occasione delle feste natalizie, ti siamo grati. Perché oltretutto, possiamo dire, di aver giocato nel Bitonto che oggi affronterà la Serie C, un campionato professionistico. Attenzione però, la forza di una società è anche il vivaio, sono anche le squadre giovanili. Sotto questo punto di vista penso che ci siano state delle pecche. Oggi, purtroppo, bisogna recuperare quelle pecche perché la legge del calcio e le leggi della federazione impongono che si debbono avere delle squadre giovanili a livello nazionale. Ed ecco perché è giusto che si crei... A Bitonto ci sono tanti di quei ragazzi. Nel circondario ci sono tanti altri ragazzi. E su quelli noi possiamo anche costruire un futuro diverso e che soprattutto costi meno dal punto di vista economico, insomma. Io ho esordito nel Bitonto a 16 anni. Per un fatto casuale. Per la neve che scendeva. E quindi la mancanza di giocatori quella domenica. E quindi ho esordito. Però con la maglia io l'ho sempre tenuta e ce l'ho attaccata la mia pelle. La mia pelle è nero-verde. Ecco, però bisogna fare in modo che tanti ragazzi oggi vengano incentivati. Perché è vero che il calcio non è più quello di una volta. È vero che oggi procuratori, tanta gente, che tanti genitori purtroppo che vedono nei figli i campioni del domani non si rendono conto che invece fanno solo male ai propri figli. Ecco, si dovrebbe tenere presente che un ottimo vivaio e un settore giovanile che, ecco, inglobi tutti questi ragazzi che hanno voglia di giocare, possa col tempo dare dei grandi risultati. Un risultato bitonto negli anni 90 l'ho avuto. Quando un Under 18, perché la legge federale prevedeva che ci fosse ogni società semiprofessionale della Lega di Quarta Serie avesse il settore giovanile e quindi l'Under 18, mettiamo insieme un Under 18 che alla fine fu campione pugliese. Ma la soddisfazione non fu solo quella di raggiungere il titolo di campione della Puglia con tanti bitontini, ma il vedere in una partita nel bitonto di Quarta Serie nove di quei ragazzi essere schierati in prima squadra. Il che significò un grande vantaggio anche per gli anni successivi per la società che non dovesse obbarcarsi tante di quelle spese per comprare tanti giocatori. Ecco, appunto, ha parlato di infrastrutture e parliamo anche di stadio perché uno dei rischi che si corre è quello di probabilmente non giocare a bitonto per i lavori che occorrono alla struttura sportiva. Ci si augura che comunque si lascino da parte le polemiche politiche e si pensi alla sostanza, cioè al fare. Non ha senso la polemica. Non ha senso schierarsi anche contro un'amministrazione che comunque in un certo senso è stata anche vicina alla squadra. Certo, in questo momento ci sono sempre gli sciacalli che approfittano delle situazioni per poter passare come coloro i quali vogliono risolvere tutti i problemi. Con grande onestà dobbiamo dire che i problemi che lo stadio, purtroppo, bitontino ha non sono da risolvere in 4-4-8. Probabilmente perderemo qualche domenica giocando fuori ma l'interessante è che oggi si cominci a lavorare seriamente perché si raggiunga una situazione ottimale per il nostro campo sportivo. E le polemiche non servono a nulla. Le polemiche servono solamente ad alimentare fratture fra la società e la politica. Ammesso che la politica abbia poi tutte quelle colpe che le si attribuiscono perché probabilmente avremmo però parleremmo di sé e di mai sappiamo che con il sé e con il ma la storia non si fa probabilmente avremmo dovuto pensare ad uno stadio diverso quando è stato costruito quando c'erano i soldi quando si poteva quando, quando, quando non è stato fatto qualcuno forse dovrebbe pensare a quel periodo e forse dovrebbe avere anche la lingua a posto avendo in determinati periodi avuto dei ruoli molto ma molto importanti insomma ecco perché per il bene della nostra città per il bene della nostra squadra perché questo sogno possa durare io mi auguro che si mettano da parte le polemiche perché poi gli sportivi sono facili ad essere fomentati sono facili ad alzare le barricate sono facili a schierarsi a trovare il nemico da combattere il problema è che i tifosi devono capire che purtroppo ci sono dei momenti nei quali ci sono cose che già hanno un percorso prestabilito e che devono essere condotte a termine così come chiaramente nessuno penso nessuno ha dimenticato che c'è il problema stadio che deve essere risolto nel più breve tempo possibile e per quelle che sono le notizie che io ho raccolto e che da vecchio sportivo mi vengono offerte devo dire che so che stanno lavorando perché si raggiunga si raggiunga il massimo a bit a 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 Grazie a tutti.